Questa è un'importante opportunità per i ragazzi, per i docenti, ma per noi tutti per riuscire in qualche modo a trasformare il nostro mondo e a renderlo più vivibile. Sicuramente un bel progetto quello che inizia oggi all'Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni su un tema importantissimo che tocca le vite di tutti noi, cioè la sostenibilità. Noi come città metropolitana, sessorato all'agricoltura, alle politiche comunitarie, vogliamo dialogare con i giovani perché la sfida ai cambiamenti climatici deve camminare soprattutto nella testa e sulle gambe delle nuove generazioni. Ed è insieme a loro che vogliamo decidere le azioni da realizzare in città metropolitana. Abbiamo delle proposte che partono dall'agricoltura, dal recupero dei terreni abbandonati, dell'identità dei nostri borghi. Naturalmente a quella tradizione, alla nostra storia, alla storia delle nostre colline, del nostro entoterra, noi abbiamo la possibilità oggi di investire con l'innovazione, quindi col percorso di ricerca scientifica che in questi decenni c'è stato. Recupero della tradizione sull'innovazione e questo noi crediamo il percorso per costruire un'economia sostenibile nel nostro territorio. Questo progetto sta rivoluzionando la cultura nell'insieme, anche perché educare alla sostenibilità significa anche una sfida per noi della scuola che coinvolge non solo la scuola ma anche consente, impone una rieducazione sia riguardo il tradizionale metodo di lavoro governativo ma soprattutto il nuovo modo di fare scuola. Questi ragazzi oggi danno la possibilità di rendere visibile questa performance che hanno realizzato nella scuola, che rientra, questa attività dell'agenda 2030, rientra nella disciplina trasversale di educazione civica ormai obbligatoria nelle scuole. L'agenda 2030 consente appunto di raggiungere quegli obiettivi, quei 17 obiettivi come la salute, il benessere, l'ecosostenibilità, l'inclusione, e anche prestare attenzione al cambiamento climatico, alla cura dell'inquinamento delle acque marine. Con l'alberghiero e l'associazione Sevier Globe abbiamo intrapreso questo percorso importante che si chiama Green School per Agenda 2030. Oggi presentiamo il corso per i docenti che riguarderà proprio lo sviluppo sostenibile Agenda 2030 e per gli studenti abbiamo immaginato un'Agenda 2030 Game Challenge, quindi una sorta di grande gioco, una grande sfida che vedrà impegnati gli studenti di questa scuola anche in partnership con altre scuole italiane al fine di rendere concreto la possibilità di attivarsi e quindi raggiungere gli obiettivi. Obiettivi che sono importantissimi, in particolar modo la lotta al cambiamento climatico, così come la tutela e la valorizzazione della biodiversità e ancora le città sostenibili, la lotta allo spreco e così via.